Il progetto Light Your Heart nasce dalla volontà di Leocos di voler comunicare al mondo, al mondo dei designer, una lampada che oggi viene adottata, una mega lampada che oggi viene adottata da Leocos. Parliamo della Degret GJ. Come fa questo? Leocos lo fa coinvolgendo 10 designer a livello internazionale, con delle firme piuttosto note e importanti, e unendo una serie di partner commerciali, partner tecnici, tutti insieme uniti per un atto di solidarietà rivolto alla Città della Speranza. La Città della Speranza è una fondazione che nasce nel 1994 con la finalità di focalizzare la ricerca sulle malattie oncologiche e pediatriche e lo scorso 2012 conclude un'opera importante che è l'Istituto di ricerca pediatrica oncologico a Padova, progetto di Paolo Portoghesi. I 10 designer in questo progetto Light Your Heart intervengono personalizzando con un tema libero la lampada. La lampada personalizzata acquista un valore, un valore perché porta una firma importante, ma allo stesso tempo porta un valore di un concept. Queste lampade verranno messe all'asta il 13 settembre durante un evento che si svolgerà presso i studi di ricerca pediatrico oncologico.